Tanti modenesi hanno combattuto la grande guerra partendo al fronte e ovviamente con eroismi e tragedie. Modena era provata essa stessa con i drammi della prima guerra mondiale affrontando un periodo di grandissima difficoltà, i problemi non mancavano, tante famiglie con un caro partito verso il fronte, cibo scarso, penurie di combustibili, difficoltà di ogni genere e persino il rischio di diffondersi dell'influenza spagnola. Ma è proprio i drammi del Novecento che hanno portato dalla prima guerra mondiale, poi al ventennio fascista, la reazione della seconda guerra mondiale e con la resistenza che i modenesi sono riusciti a costruire la città che conosciamo mettendo al centro i valori della pace, della solidarietà, della solidarietà della comunità e della libertà dell'uguaglianza. Credo che questa sia la forza ancora oggi di Modena.